Il commissario Alfonso Terribile ed il vice Antonio Moscatello, hanno le idee chiare e le hanno esposte in una conferenza stampa. Sarà data priorità alle cose essenziali ed alla buona amministrazione. Abbiamo trovato un comune efficiente e eccellenti dipendenti, la città non verrà paralizzata, ma si continuerà a lavorare. Sui lavori in programma Terribile ha detto, lo skatepark deve essere completato con sistemi che riguarda... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.